Un incendio nel quadro elettrico nel municipio di Bianco si è verificato nella mattinata di ieri intorno alle ore 11. Grazie al tempestivo intervento del comandante della polizia locale Saverio Cavaleri si è evitato il peggio. Infatti lo stesso comandante dopo aver usato l'estintore di servizio è riuscito a spegnere l'incendio e fatto evacuare tutto il personale e gli utenti che si trovavano nei vari uffici comunali dislocati su due livelli. Intanto dopo aver lanciato l'allarme sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Bianco che ha messo in sicurezza tutta l'aria e ha avviato le indagini per poter risalire all'esatta dinamica. Se il fatto fosse accaduto di notte o durante la chiusura del comune l'intero stabile avrebbe potuto essere distrutto. In via precauzionale con l'ordinanza numero 2 del 23 1 2024 il sindaco di Bianco Giovanni Versace ha disposto la chiusura del comune per due giorni per la salvaguardia della pubblica incolumità. Ho fatto solo il mio dovere ha dichiarato il comandante della polizia locale Saverio Cavaleri.